buongiorno a chi non si è perso di vista e come promesso ecco per voi la serie tv marcata netflix alice in wonderland e a tal proposito cosa fareste voi se vi risvegliaste in un mondo di confine dove bisogna giocare a dei giochi mortali dai quali l'unico modo per ritirarsi è morire tratto dal manga imaua no kuni no alice questa serie tv composta da per il momento soltanto 8 episodi ci dà la risposta ovvero faremo di tutto di tutto per continuare a giocare ovvero per continuare a vivere anche se essendo un survivor games alice in the borderland potrebbe ricordare film americani come hunger games o maze runner il filone narrativo se ne dissocia totalmente da questo tipo di film americano in cui c'è l'eroe che si offre addirittura volontario per i giochi della morte qui a risu il protagonista è posseduto dalla paura dall'inizio alla fine è mai giusto così e in un susseguirsi di prove sempre più cruente e ansiotiche sia per il protagonista ma anche per lo spettatore in certi punti io stoppavo prendevo fiato e poi ricominciavo perché ti porta sempre più dentro il il fatto che stai per morire cioè qui muori non torni più non si torna indietro altro che le tre dita alzate e facciamo la rivoluzione quasi muore e voi verrete completamente catapultati dentro questo mondo e sarete parte del del gioco cioè la parte dal punto di vista umano antropologica è fatta benissimo secondo me cambia molto dai primi quattro ai secondi da prima parte cioè i primi quattro episodi ai quattro episodi finali cambia molto questo fardello cambia ok se all'inizio hai un fardello addosso pesantissimo che lo porti con a risu il protagonista la nostra alice nella seconda parte subentrano altre cose subentra un è proprio il punto centrale alla fine del quarto in realtà alla fine del terzo però poi lo svolgimento della quarta puntata ti porta al dopo questo fardello rimane per tutta la serie però diciamo che nei quattro episodi successivi nei quattro episodi finali questo questo fardello che ti porti addosso quest'ansia che ti porta addosso cambia se prima era un'ansia più per la sopravvivenza la seconda parte vabbè non ve lo dico una cosa che vi posso dire è che nei primi quattro soprattutto la cultura giapponese è molto 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 evidente non è soltanto giapponese ma è soprattutto giapponese questo modo di questo stile di vita questa visione della vita ovvero il sacrificio del singolo per il bene della comunità benché in una puntata e non vi dico qual è questo punto di vista questo stile di vita questa visione della vita viene completamente deturpata in modo magistrale e fa male fa malissimo proprio a te spettatore fa malissimo per dirvelo in modo un po' criptico ma neanche troppo in realtà il dalmata il dalmata di Aldo Giovanni e Giacomo ma forse ho già detto troppo adesso arriviamo al titolo borderland l'abbiamo capito questo mondo mistico che non si capisce bene da dove si è arrivato né come ci siano arrivati loro Alice perché Alice? allora diciamo che le carte da gioco ci sono il cappellaio c'è e il mondo abbiamo detto che c'è il mondo mistico magico c'è e poi abbiamo Alice il nostro protagonista Arisu Arisu benché sia la versione maschile giapponese e moderna di Alice ricorda tantissimo la più classica Alice se andassimo a prendere la scrittura dei personaggi ok di Arisu e Alice la base proprio senza fronzori senza nomi senza contesto proprio i sentimenti che provano la visione del mondo che hanno sarebbero prettamente identiche e nei primi minuti della prima puntata in cui veniamo a conoscere Arisu è esattamente Alice ok ha lo stesso comportamento ha la visione del mondo identica quella di Alice e vive anche in un certo contesto senza andare a dire troppo che ricorda molto molto quello di Alice quindi da quel punto di vista lì ci siamo e lui è veramente bravo adesso non mi ricordo il nome del dell'attore che interpreta Arisu ma è abbastanza famoso in Giappone tipo Kenzo credo non lo so non mi ricordo magari ve lo scrivo ma lui è veramente veramente bravo a interpretare questo personaggio che è complessissimo è complessissimo non viene approfondito al massimo potevano fare di più ma per quello che hanno fatto lui è veramente veramente bravo arriviamo alla parte tecnica la fotografia mi è piaciuta abbastanza i movimenti di camera sono qualcosa di spettacolare in certi punti diciamo che il reparto tecnico e soprattutto anche quello del suono aiuta tantissimo il suono praticamente vi prende le viscere le gira e ve le tieni in una morsa dalla prima puntata alla all'ultima cioè proprio vi stringono le butali così nelle mani e fa male diciamo che il reparto tecnico ce la mette tutta per farvi soffrire e in certe occasioni ci riesce benissimo ma proprio bene ma sono proprio bravi e dicevo i movimenti di camera in certi momenti vi faccio un esempio solo quando c'è il pieno panico in cui ci sono i personaggi che parlano fra di loro e devono decidere dove andare cosa fare il cameraman comincia a girare intorno ai personaggi e crea un effetto poi la musica si alza e tu rimani incollato alla poltrona barra sedia barra pavimento barra dove sei seduto e cominci a girare e ti crea un ansia addosso mi viene un calo di pressione quindi in conclusione benché non sia un capolavoro e abbia i suoi difetti e li si vedono tutti da delle scene smielate completamente inutili abbastanza anche forzate a degli effetti speciali che bentornati negli anni 80 non sono proprio al passo coi tempi alcuni non tutti eh ma alcuni effetti speciali veramente cioè dai raga siamo nel 2020 e delle scelte registiche che mi hanno fatto un po' storcere il naso degli spiegoni scene che sono degli spiegoni in cui ti spiegano delle regole dei giochi che le avevi capite da solo cinque minuti cinque secondi prima vedendo un'altra scena cioè c'è la scena in cui si vede cosa succede si vede la regola esplicata nella realtà e poi arriva il personaggio X di turno che te la spiega grazie l'ho capita da solo vai avanti tranquillo e pesano in certi momenti proprio in certi momenti staccano proprio l'attenzione forse sono fatti anche apposta sei lì con un'ansia della madonna addosso e boom è arrivato qua che ti spiega che questo succede così perché succede cos'ha ma l'avevo capito vai avanti vai avanti a parte questo che poi le noterete anche voi il pacchetto completo pacchetto che poi effettivamente è un pacchetto è fisicamente un pacchetto va visto almeno una volta io almeno una volta lo vedrei ma anche solo che per le domande che ti vengono da porti cioè anche solo semplicemente per il pensare ok il la anche semplicemente per la visione completamente fuori da ogni logica in cui si trovano i personaggi e per tutto il susseguirsi di domande che poi ti nascono dentro su di te e su come sei fatto e soprattutto su come ti comporteresti te in una situazione del genere quindi merita almeno una visione secondo me la merita fatemi sapere nei commenti se l'avete visto cosa ne pensate e come vi siete risposti alle domande che vengono per forza da porsi ditemi se lo vedrete commenti via commenti noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova pillola ho guardato soul della pixar e sono rimasto angosciato credo che lo riguarderò ancora una volta ma non è che mi sia proprio piaciuto tantissimo devo dire la verità sono un po' deluso ne parliamo venerdì prossimo va bene buon anno e ciao ciao